Grazie a tutti Esattamente al secondo minuto del primo tempo Foto! 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 Il Milano è il vantaggio Attenzione intervengo dal Luigi Ferraris Raddoppiato la Sampdoria con il gol siglato da Palombo Attenzione vantaggio della Fiorentina con il gol realizzato da Gilardino Cambia il punteggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze Fiorentina 1 Bologna 0 Il vantaggio del Bari Quaraltunesimo 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 Ha raddoppiato la Sampdoria con Viali Rossi Da parte di Mancini Per la corrente Viali che ha messo il pallone nell'angolo basso Attenzione Attenzione In questo momento è Verona Ed è stato Elker Mettere il pallone nell'angolo basso E' una cosa tecnica della formazione Parte europea Compagni Il passaggio verso Maradora Parte di tiro Rete Rete Carnevale Per la corrente Viali che ha messo il pallone nell'angolo basso Per la corrente Viali che ha messo il pallone nell'angolo basso Per la corrente Viali che ha messo il pallone nella